Un saluto a tutti cari amici di Youtube, adesso voglio parlare di uno dei tanti misteri di epoca moderna intorno al 1600 a Sicignano degli Asburni in provincia di Salerno, quindi in Campania c'era un monastero di monaci benedettini che adesso è completamente vuoto, abbandonato dobbiamo dire che in questo convento che i monaci lì stavano proprio a soggiornare, pregavano, lavoravano a volte digiunavano, avevano incontrato un ragazzo povero e malnutrito e spendi dal loro dovere monastico lo hanno dovuto aiutare e lo hanno sfamato e dandogli anche un postoletto il ragazzo dopo che aveva mangiato a sazietà ha voluto ripagarli semplicemente aiutandoli sia nei lavori domestici che nei lavori dei campi, hanno accettato e hanno visto che era un ragazzo molto volenteroso. Un bel giorno il ragazzo andò a lavorare la terra e vide una bella ragazza di umili origini vestita con qualche straccio e si innamorò di lei, anche lei si innamorò di lui e siccome lui riuscì a prendere dei voti non aveva detto niente ai monaci dell'ingontro di questa bella ragazza. E quindi il nuovo frate e questa ragazza si incontrarono spesso di nascosto e qualcuno fece l'infame, qualcuno rivelò l'incontro tra lui e la sua amorosa ai frati benedettini e quando lo vennero a sapere andarono a spiarlo di nascosto e si accorsero che era tutto vero, quindi si innervosirono. Questa cosa loro dette molto fastidio e lo hanno punito facendolo rimanere chiuso dentro una stanza e lui arrabbiato per come lo avevano trattato maledisse i monaci e fece un patto col demonio. Il demonio consentì in un momento di rabbia, in un momento di ira, no no è la batteria scarica, continua a girare, in un momento di ira questo ragazzo aveva desiderato la morte degli altri monaci benedettini, il demonio ovviamente essendo molto astuto e anche molto furbo ha giocato sulla sulla rabbia di questo ragazzo e quindi in quel convento persero la vita molti monaci tranne lui e è arrivato arrivò poi un altro che voleva farsi monaco ma era in realtà un fuggiasco, un assassino pericoloso criminale che come riuscì a farsi monaco uccise gli altri monaci e il ragazzo invece ormai frate riuscì a scappare e in quel convento tutti quelli che erano arrivati per farsi frati oppure per un soggiorno morivano di una morte brutta e violenta. adesso è completamente abbandonato ma si dice giravoce che in questo ex convento ci sono ancora presenze demoniache e presenze di fantasmi e di esseri paranormali quale anche poltergeist e varie cose e che molta gente non vorrebbe entrare dentro per paura di morire in circostanze brutali anche perché questo edificio ormai è un luogo abbandonato un luogo ormai molto pericolante si dice che i monaci morivano alcuni infilzati da dei pali altri annegati nell'abbeveratoio per gli animali morti tutti in circostanze misteriose magari c'era qualcuno nel convento che li uccideva o forse il diavolo stesso che li uccideva il diavolo è una creatura molto furba molto astuta ma è anche un vigliacco se si presenta il diavolo e lo minacci il nome di gesù cristo della madonna dell'arcangelo michele anche di san via della pretracina il diavolo si spaventa e scappa il diavolo odia l'umanità e odia tutte le creature di dio qualsiasi creature di dio anche gli alberi le piante tutto il regno animale sono tutti odiati da questa da vari il diavolo non è uno solo non esiste soltanto satana o solo lucifero ci sono vari tipi di diavoli alcuni di essi sono degli dei pagani ormai diventati diavoli anche il dio set era un diavolo così come il dio lochi è un diavolo in sé per sé come ad esempio asmodeo berzebub bel peor bal e vari demoni c'è anche la l'anticristo ci sono intere legioni di demoni che sono esseri paranormali sono alcuni sono degli angeli decaduti come lucifero come satana altri invece sono degli sono stati principalmente degli dei ma con l'arrivo del cristianesimo e del anche dell'ebraismo e dell'islam sono automaticamente diventati dei demoni si dice che ancora oggi in questo convento del salerno di salerno continuano a morire tutti quelli che vogliono entrare dentro anche perché vi assicuro che l'edificio è completamente pericolante e ci sono vari ferri arrugginiti e tanti altri pericoli sappiate che il demonio conosce benissimo la bibbia fa memoria la bibbia e raggira la bibbia a suo favore facendo credere che dio è quello cattivo e che lui è quello buono il fatto è che la furbissia maggiore del diavolo e far credere che né lui né dio esistano così vi ha già ingannati ma il diavolo può essere facilmente allontanabile con le preghiere con i digiuni e anche minacciandolo soprattutto in nome di san michele arcangelo che così scappa immediatamente a gambe non so cos'altro volevo dirvi sempre sul demonio questa creatura molto astuta ma vigliacca pare di avermi detto tutto magari adesso non me la ricordo ma me la ricorderò più tardi bene amici questo è tutto un abbraccio immenso dal gran mitico è tutto un abbraccio immenso dal gran mitico